Benvenuti, questa presentazione vi illustrerà le caratteristiche e i vantaggi dell'innovativa soluzione software ISP che consente la pubblicazione online di documentazione tecnica interattiva. Il sistema ISP è sviluppato da Interactive Spurs, la divisione software del gruppo MB Studio, azienda leader nelle soluzioni tecnologiche rivolte all'erogazione sul media internet dei processi informativi e dei servizi relativi al settore post vendita. ISP è la soluzione software per le aziende che intendono automatizzare il processo di gestione e vendita delle parti di ricambio, abbattendo in modo significativo tutti i costi relativi a produzione, aggiornamento e distribuzione di cataloghi, grazie alle funzionalità avanzate di consultazione dei disegni esplosi, e-commerce e online customer service. Scopriamo insieme come il sistema ISP migliora sensibilmente i processi di servizio e assistenza post vendita, integrandosi senza alcun impatto sulla vostra infrastruttura IT e garantendo un ROI immediato. Il tradizionale processo di produzione della documentazione tecnica vede come unico obiettivo la pubblicazione su supporto cartaceo. La documentazione deve essere prima stampata, poi viene spedita tramite corriere espresso a clienti e centri di assistenza. In caso di revisioni, correzioni ed integrazioni successive, si è obbligati a ripercorrere lo stesso lungo processo. Attualmente, nella maggior parte dei casi, la documentazione prodotta non è immediatamente riutilizzabile per la divulgazione su media differenti, CD-ROM, web, eccetera, e deve necessariamente subire conversioni ed elaborazioni specifiche. ISP rivoluziona completamente questo processo, consentendo un'immediata divulgazione della documentazione tecnica con contenuti aggiornati in tempo reale. I contenuti tecnici vengono idoneamente conformati da MB Studio per ottenere un database strutturato che consente la pubblicazione multicanale delle informazioni. I contenuti così elaborati sono fruibili da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet, desktop PC, palmari, smartphones, eccetera, e direttamente riutilizzabili per altre applicazioni, quali ad esempio stampa cartacea, intranet aziendali e CD-ROM, mediante semplici processi di database publishing. L'erogazione dell'applicazione ISP in modalità ASP, Application Service Provider, garantisce all'azienda costi certi per il caricamento dei dati e nessun impatto sulla struttura IP. In questo modo potrete dedicare tutte le risorse interne al vostro core business. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!